Maria Elena Boschi teme che nessuno voti per Italia Viva anche se adesso si è ammessa con Labonino e con Totò Cuffaro o forse proprio per questo e si è fatta l'idea che sia corpa dei giornalisti schierati quindi vuole farli fuori dai talk della RAI in nome della par condicio cioè della legge che regola la parità di accesso dei politici in campagna elettorale in tv oppure sottoporli a contraddittorio cioè se uno dice che piove ce ne vuole un altro che dica che c'è sole se uno dice che la Libia è in Africa ce ne vuole un altro che dica che la Libia è in Oceania per dire e Laboschi ignora l'articolo 21 della Costituzione tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero però va capita perché l'articolo 21 vale soltanto per chi pensa e ha una strana idea di imparzialità pensa che imparziale è quello che non pensa in realtà imparzialità è un'altra cosa quindi Laboschi vuole solo giornalisti RAI perché si fida solo di loro evidentemente spera che si ricordino quando dieci anni fa lei e Renzi comandavano e alla RAI erano tutti renziani e boschiani quindi tutti terzi e tutti imparziali al 100% come ebbe ai tempi della buonanima questa è la stampa di Torino del dicembre 1934 tredicesimo anno dell'era fascista a Villa Torlonia il duce pratica ogni giorno uno sport lunedì marcia egli percorre con gioie senza sforzo apparente parecchi chilometri a un'andatura rapida e cadenzata qualunque sia il tempo il martedì è dedicato al nuoto i moderni sistemi di nuoto sono conosciuti dal duce che si tuffa con audacia in piscina e nel mare e termina volentieri la nuotata conversando nell'acqua con i suoi figli sulla sua motocicletta sulle sue auto da corsa egli divora il mercoledì le belle strade che si snodano nella campagna romana pilota pieno d'audacia non ha mai avuto il minimo incidente se qualche volta il mezzo meccanico lo tradisce non esita a ricercare lui stesso la causa del guasto senza preoccuparsi dell'olio del grasso che sporcano le sue mani l'abilità di Mussolini nel cavalcare ben nota il giovedì egli salta tutti gli ostacoli con facilità da perfetto audace cavaliere il suo cavallo bianco che egli circonda di ogni cura e che è davvero focoso sa comprendere l'affetto del suo padrone nitrendo in modo significativo allorché sente la sua voce due ore di volo di motonautica occupano il venerdì e costituiscono la migliore ricreazione del duce il sabato è consacrato a una lunga seduta di scherma seguita da una di pugilato anche in ciò Mussolini prova che il suo corpo ha un'agilità sorprendente la domenica egli non dimentica l'indispensabile educazione fisica aggiungiamo inoltre che il duce è pilota e merito che a bordo del suo aeroplano e del suo idrovolante ha coperto perfino da Roma a Venezia più di 800 chilometri senza scalo questa invece è l'ansa del gennaio 2015 secondo anno dell'era renzista per il premier Matteo Renzi vacanze di capodanno in pieno relax sulle piste da sci di curma ieri in valle d'aosta alle 9 30 in punto è sceso dalla foresteria della caserma perenni sede del centro addestramento alpino dove ospitato da martedì sera assieme la moglie Agnese ai figli ad alcuni amici ha raggiunto le piste del comprensore del monte bianco accompagnato dal maestro di sci e istruttore militare Ettore taufer sciatore esperto il premier si è tuffato di buon'ora con stile sicuro in una non stop di discese durata più di tre ore anche su percorsi mediamente impegnativi giacca azzurra della nazionale olimpica di soci 2014 occhiale a specchio attrezzatura impeccabile non hanno impedito agli increduli sciatori di riconoscerlo neanche il tempo per lui di mettere gli sci che già sui pendigli innevati ai piedi del monte bianco è tutto un hai visto renzi il rituale del selfie non è stato negato a nessuno anche il giovane fan più intraprendente è stato accontentato tuttavia il premier renzi non rinuncia a tenere un occhio puntato su roma è un occhio bionico non sappiamo se il destro o sinistro che ovunque lui si trovi nel mondo punta sempre dritto alla capitale